Per Rete Zero siamo con Italo Arcuri, giornalista, vice sindaco di Riano e assessore alla cultura. E che cosa si inventa l'assessore? Scrive un libro che parla di memoria, che parla di anima, che parla di ferite ancora aperte ma che possono raccontare storie di vita e lanciare un messaggio importante al di là del tempo ai giovani di oggi. Memme bevi latte, salvata da Teresa, sembra una favola, è qualcosa di più. Purtroppo non è una favola, però come diceva lei è un libro di salvezza e di speranza, è un libro che vuole tramandare un episodio di storia importantissimo, racconta la storia di due coniugi, Teresa Giovannucci e Pietro Antonini, che in un piccolo paese della provincia di Roma, Riano, hanno salvato, nascondendoli per nove mesi, otto cittadini ebrei, tra cui una bambina di due anni e mezzo, appunto, Memme bevi latte, ovvero Miriam della Riccia. È una storia, dicevo, di salvezza perché è una salvezza reciproca quella che si consuma tra Teresa e la famiglia della Riccia. Teresa venne a Roma a 13 anni dalle Marche a lavorare come badante, fu accolta dalla famiglia della Riccia, Teresa poi diventa la protagonista, nascondendo e salvando gli otto ebrei, presto cui lei prestava servizio, dalle leggi razziali e dall'oppressione e dalla violenza nazista. Una bella storia importante che lei scopre come? Io scopro, vivendo a Riano da 11 anni, non sono nato a Riano, ma vivo in quel paese da 11 anni, l'ho scoperta leggendo una lapide nei primi anni di mia permanenza lì nel paese. Dopodiché, essendo entrato nella macchina amministrativa del comune, ho approfondito la ricerca e ho subito fatto visita agli eredi della famiglia di Teresa e di Pietro, ho lavorato con loro e con le persone salvate da Teresa e da Pietro ed è venuto fuori un lavoro di ricerca che poi si è materializzato nel libro di cui stiamo discutendo. Un libro che parla di sentimenti, che parla di emozioni, che parla di numeri tragici, inquietanti, un libro che sa parlare di storia rendendola viva. Sì, volevo centrare questo obiettivo, raccontare cose orrende, complicate, con un linguaggio semplice, incastonando la storia di Teresa e di Pietro con gli accadimenti, gli avvenimenti che si sono succeduti in Italia dal 40 in poi. Ci sono riuscito da quello che ho visto, anche dalla presenza dei giovani che vedo alle iniziative nei paesi in cui andiamo a presentare il libro. Bisogna saperla raccontare la memoria, renderla fruibile a tutti e soprattutto avere come target i giovani perché è tramite i giovani che la memoria si tramanda e che la memoria si conserva. Silenzio ed emozione, attenzione che i giovani oggi hanno testimoniato ascoltando questi racconti. Forse è un modo importante di educare, un modo importante per far passare messaggi che parlino di vita in un mondo, ahimè, arido e cinico, quale quello contemporaneo. È vero e le dirò di più. Oggi nell'incontro che abbiamo fatto qui a Rieti per presentare il libro si sono incrociate due storie tragiche, ambe due. Quella di Rosa Anan che è stata deportata da Rodi ad Auschwitz e quella di Meme Bevilatte, alias Miriam della Riccia, che invece ad Auschwitz non è andata grazie a Teresa e a Pietro. Questo incrocio, questi binari che per fortuna hanno avuto orientamenti e direzioni diverse sono stati ascoltati in ossequioso silenzio come si deve alle persone verso cui si deve un rispetto che va al di là della storia in sé perché rappresentano appunto la storia del mondo. Teresa salvando otto persone ha salvato un'umanità. Da Rieti, centro d'Italia, con affetto, un grazie di cuore a Italo Alcuri per questa splendida testimonianza. Un libro davvero da leggere. Meme Bevilatte, salvata da Teresa.